Sicuramente oggi è stata per tutti un'esperienza molto importante, è proprio questo contesto dell'auditorium in cui appunto si richiama l'aspetto del concerto, in cui ognuno ha un suo spartito da dover interpretare e questo poi che ciascuno di noi nella propria vita deve riuscire a trovare, qual è il suo spartito e sapere essere diretti soltanto dall'unico maestro dall'alto, quindi chi non c'è stato oggi può ricercare queste parole che risuonano in se stesso e sapere che in tutte le religioni c'è questo stesso anelito alla vicinanza, alla fratellanza, alla pace e chi invece dice il contrario effettivamente lavora contro, noi dobbiamo lavorare in senso costruttivo non solo per una pace in terra ma per una pace invece dell'altro mondo e tenere uniti i mondi, ecco questo mondo e l'altro mondo. Grazie. Grazie. Grazie.